Banda del buco in azione. Per la terza volta in meno di sette giorni presi di mira istituti di credito della provincia di Udine. Dopo i colpi andati a vuoto alla Friuladria Credita Agricol di Corno di Rosazzo e della Credi Friuli di Cervignano, i malviventi in azione presso lo sportello ATM dell'ufficio postale di Amaro in Carnia. Azione fulminia nella notte nel giro di pochi minuti, forse due giri di lancetta dei secondi dell'orologio, anche in questo caso per i radri a finire nel sacco le pive e non il denaro. Sul posto i carabinieri del radiomobile di Tolmezzo assieme alla vigilanza privata e vigili del fuoco. A loro arrivo nessuna traccia degli autori del tentato furto. I danni materiali sono in corso di quantificazione. Come detto non è stato asportato denaro. L'ufficio postale è rimasto chiuso e dovrebbe riaprire nella giornata di domani mentre per la riattivazione dello sportello Postamat i tempi sono più lunghi. Sotto osservazione le immagini immortalate dai sistemi della videosorveglianza presenti nella zona.